Sono sui social, ma non l'ho fatto davvero, ma non lo penso davvero. Con Casarin che invita Tessitori all'abimane. Mentre Charlie Moore prova a mettersi in proprio con grande coraggio e con un elegantissimo rilascio di mano destra. Rajon Tucker contro Willis, schiaccia per Tessitori che si difende dall'ipotetico tentativo di chiusura di Ogbeide. 17-9 Venezia, Tucker si butta di là e trova il secondo potenziale, gioco da tre punti della sua serata, incendiando il tagliercio. 19-9, il 5 convinto, rabbioso di Rajon Tucker con Sims. La chiede Tucker che può sfruttare la differenza di Kili con Moore. Ha spallato e vuole farsi un po' di spazio, prova a tenerlo Moore con un'ottima difesa. Va a trovare un canestro quasi impossibile Rajon Tucker. Movimento di Wiltier che scarica per Brooks, che non si prende il tiro. Ancora Wiltier contro Hawkins, un po' di centimetri di differenza ci sono. Ottima virata sul perno di Kyle Wiltier. Charlie Moore dentro con una grandissima giocata. Sprazzo di magia di Charlie Moore. 39-15, moto d'orgoglio del piccoletto che però è un vero funambolo. Heidegger di mestiere e che sia una serata balisticamente felice lo conferma anche questa situazione. Gioco da tre punti che può diventare gioco da quattro punti per Heidegger. Ma da Wiltier pronto Sims per la chiusura. Non deve fare chissà che miracoli. Wiltier prova ad attaccare Cabengen e lo fa saltare con una bellissima pinta. We're just very focused and we've had some tough matches in the last couple weeks and we just came, came, came really ready to go today. Tucker tiene a distanza Wiltier, si alza dalla media distanza, va a sbagliare. Il primo sulla palla vagante è Moore che con una Veronica inutile va a perdere un brutto pallone. Tucker a cenno di Eurostep. Quarto gioco potenziale da tre punti della sua serata. Permette un comodo recupero a tessitori. Tucker, altra gran giocata di Tucker di pura esplosività. Listoia ci prova in solitaria con Cabenghele che va a stoppare ma non basta perché c'è il canestro di Jordan Varnado. De Nicolaou, backdoor, Heidegger, molto molto semplice. La perde banalmente O'Connell, si va di là da Widdell che affonda anche lui con Grazia la schiacciata a due mani. O'Connell, cerca Gloria, anche lui. Torna fuori da Saccaggi della Rosa. Pallone per Hawkins che ha spazio da tre punti. Continua Hawkins. Ora il vantaggio è di 26, diventano 28 con il canestro di Amedeo Tessitori. 9-6, 6-9, Reier Venezia, l'antipasto di Coppa Italia. Ha il sapore del cicchetto veneziano. We wanted to make a statement. Obviously, we have to see them again, so respect to them and what they've done. But we just wanted to go into the cup with some momentum and show everybody what we're capable of, even when we're not at full health. So this was just a testament to what we've been, you know, preparing for all season. Amedeo Tessitori